tira quando tu ti tira cosa quello di avere un movimento di perchè ha il tuo tecnico si può fare se tira lui non ci movimenti non indietro io faccio uno muove ok? questo è uno ma solito appesario che tu ti capace di notare solito lui ha il suo tecnico poi lui mi stringe questo questo vive ma vive con questo movimento quindi uno tu devi con quella cintura di mano andare qua questo sinistra uno passo così ok proviamo questo ok questo quanto bello questo viene ora io appoggio anche questo mano più perchè qui non vive più quindi spinge ok ora ora